Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà il ritorno di un po' di variabilità sull'Italia, pressione atmosfere che infatti in diminuzione nel nostro paese, tornano delle nuvole e torneranno anche delle piogge, anche se non si parla di piogge particolarmente intense. Cominciamo dalla nuvolosità e come vedete tornano sì degli annuvolamenti sull'Italia in giornata, non saranno nubi particolarmente minacciose, però ripeto, atmosfera più instabile, tempo più variabile. Controllando le precipitazioni notiamo infatti il ritorno di un po' di pioggia sulle regioni del Medio e Basso Tireno in giornata, nel pomeriggio si formano degli acquazioni a ridosso della dorsale peninica e anche a ridosso della fascia alpina-pralpina. Ripeto però fenomeni non particolarmente intensi e insistenti. Resta il fatto che sarà un lunedì più variabile, con un po' più di nuvole, dei piovaschi su Alpi lungo l'Appennino e poi vi dicevo anche sulle regioni del Medio e Basso Tireno, comprese le isole maggiori, qualche piovasco anche tra la Puglia centro-settentrionale e la Basilicata. Temperature in leggera diminuzione ma da quel punto di vista esisterà comunque abbastanza bene. Per tutti i tali sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.